Avevo paura non di morire, ma di morire frainteso, perché tutto quello che ho scritto, quello che ho fatto, quello che ho recitato, una parte, nascondeva la mia vera anima o se vogliamo il mio vero carattere o se vogliamo non mi ero esposto a sufficienza, non per essere un bugiardo, ma per timidezza, per paura. E la paura fa nascondere molte cose. Alla resa dei conti con la vita, mi sento ancora bene, però si muore anche per incidenti di montagna o di automobile. E quindi ho detto, aspetta, che voglio dire qualcosa che non ho detto, ma non solo non ho detto, non l'ho detto in quel modo. E ho cominciato a scrivere, per non dimenticarmi, queste ventate emotive, questi arrivi di memoria, arrivi di malinconia, arrivi di ricordi, di ricordi che anche i più tragici col tempo erano diventati accettabili, che io non volevo più dirgli col rancore e la rabbia e la ribellione e la vendetta, ma come un documento, come una cosa da registrare, le altalene, l'andare e venire delle cose che vogliono essere sempre già state.